piedi alla larghetta delle spalle movimento fluido e controllato senta mai di stendere le ginocchia i piedi sono posizionati al centro della pedana di appoggio con le punte leggermente divergenti il carrello scende fino a che le cosce formano un angolo di massimo 90 gradi con le gambe scendere oltre è controproducente e pericoloso perché porta a staccare i lombari dallo schienale con un'errata distribuzione del carico su questa donna il movimento è fluido senza mai staccare i piedi della pedana e senza soste in alto o in basso durante il set